Nella sede il Comune di Macerata è stata presentata l'edizione 2014 del Macerata Opera Festival. È un altro tassello importante della nuova storia dello Sferisterio, è un tassello molto importante perché ci consente di proiettarci dentro ai più importanti teatri italiani anche per quanto riguarda la programmazione. Per noi è una grandissima soddisfazione, purtroppo questo fa il paio anche con il preannunciato taglio del fusse anche per Macerata Opera Fesia che purtroppo oltre agli altri tagli di provincia e fondazione riceverà anche il taglio del fusse ma noi siamo determinati ad andare avanti e la biglietteria che ad oggi è molto positiva ci dà forza e energia per andare avanti. Filo conduttore dell'edizione numero 50 sarà l'opera e donna, le opere in cartellone saranno Tosca, la Traviata e l'Aida. Mi sembra necessario per una ragione storica perché in fondo la prima edizione, quella dedicata al Conte e Conti di Civitanova, a Franziska Solari, prima interprete di Aida, è un effetto di un grande gesto d'amore per cui ci sembra bello perpetuarlo 50 edizioni dopo. E poi approfittando di questo spunto storico romantico, abbastanza suggestivo ma in fondo non così essenziale, mi sembra invece che sia necessario porre l'accento ancora sulla disparità che l'uomo e la donna vivono nel mondo anche occidentale e che nel mondo della cultura e della musica e dell'opera in particolare raggiungono l'apice. Per cui essendo il ruolo del direttore un ruolo di evidente potere e prestigio, questi due aspetti sono ancora nella nostra società ad appannaggio quasi esclusivo dell'uomo. La presentazione fa parte delle novità introdotte lo scorso anno dal direttore artistico Francesco Micheli e ha lo scopo di informare e far tornare i melomani che assistono all'edizione 2013. Il nuovo corso in che consisteva? In che consiste? Innanzitutto a riavvicinare il pubblico allo sferisterio. Siamo riusciti in questo intento perché sono aumentati tantissimo, sono raddoppiati gli spettatori l'anno scorso rispetto agli anni precedenti e poi naturalmente aumentando gli incassi ma anche, fatto altrettanto importante, riducendo fortemente le spese, i costi ma ancora di più non diminuendo di conseguenza come qualcuno poteva pensare e temeva il valore, la qualità dello spettacolo ma addirittura aumentandolo grazie al direttore artistico Micheli. E poi un'altra novità, il nuovo corso è consistito nel coinvolgimento di tutto il territorio, non solo a livello economico, imprenditoriale ma anche a livello proprio di territorio. L'anno scorso ho iniziato col Festival Offe coinvolgendo la città, anche coloro che non avevano la possibilità o comunque non assistevano a uno spettacolo dentro il teatro e quindi l'intera città. Da quest'anno addirittura all'intero territorio grazie anche alle manifestazioni che abbiamo voluto in ricordo, in omaggio di Beniamino Cicchi ma non solo a Recanati in tante altre città.